Grazie a tutti, io oggi sono qui per presentarvi un plugin, in particolare in questo caso Advanced Custom Fills, perché ci permetterà appunto di creare interfacce intuitive e adattate a casi particolari per clienti specifici. Come noi sappiamo WordPress ci mette di default la creazione di contenuti in maniera molto semplice, quindi possiamo creare facilmente delle pagine, degli articoli, oppure con le ultime versioni attraverso i custom post type possiamo creare l'esempio dei firm, nel caso appunto di un blog per firm, portfolio, eventi tramite alcuni plugin di eventi, woocommerce e via discorrendo. Sappiamo che i contenuti principalmente passano attraverso l'edito alternativo di WordPress, quando vogliamo creare qualcosa di più avanzato, soprattutto nei temi premium che troviamo su Temforest, per fare un esempio, utilizziamo il page builder. Io penso che per un designer questo sia fantastico perché possiamo gestire i colori, possiamo gestire qualsiasi cosa in maniera rapida e veloce e soprattutto in dolore. Ma cosa capita quando c'è un cliente che va a toccare tutto questo? Quindi il cliente magari sposta, fa cose strane, mette colori sballati, c'è un sito bellissimo che apparentemente era fantastico, diventa uno schifo, permettetemi il termine. WordPress ci mette a disposizione di default i campi personalizzati ed ecco che qui Advanced Custom Field entra in azione, ci permette di rendere l'esperienza che di default WordPress ci mette a disposizione più unica. Advanced Custom Field ci mette a disposizione circa una ventina di campi e qualcosa in più. Io ho diviso questi campi in diverse sezioni. Noi abbiamo i campi di tipo base che sono testo, aree di testo, numero, email, url e password che sono i campi semplici che possiamo trovare anche volte nei form. Ci mette a disposizione campi di tipo contenuto, quindi ad esempio il classico editor che noi troviamo di default in WordPress lo possiamo replicare più volte. Una funzione del campo embed, come appunto succede possiamo embeddare video, immagini, tweet e via discorrendo tramite url esterne. Possiamo caricare immagini, file e con la versione premium di ACF possiamo impostare delle gallerie, quindi selezionare più immagini, non una singola immagine per creare delle slide o delle gallerie. Poi ci sono i campi di tipo scelta, questo qui è importante perché ci permette oltre di creare dei campi di tipo select, checkbox, bottoni radio, vero o falso, di impostare anche delle condizioni logiche per i campi che susseguono i campi di tipo scelta e vi spiegherò anche dopo perché. Poi esistono i campi di tipo relazione, quindi io posso permettere al cliente in maniera semplicissima con l'oggetto post di definire alcuni post type, per esempio selezionami un film da un elenco, posso collegare automaticamente a una pagina esistente che esiste solo nel mio blog o nel mio sito, attraverso le relazioni che è molto simile appunto all'oggetto post posso permettergli di filtrare i miei contenuti, quindi avrò un menu a tendina per filtrare post type, di ricercare manualmente, eventualmente anche una tassonomia e poi ci sono le tassonomie, quindi le categorie oppure tassonomie personalizzate e poi posso decidere anche ad esempio che quel tipo di post deve essere visto dall'utente Mario. Poi esistono i campi GQ, Google Map, quindi avremo una nostra mappa dove in maniera molto semplice potremo inserire l'indirizzo dell'attività, un selettore data, un selettore colore, quindi questo è molto semplice e poi ci sono questi tipi di campo layout che io li ritengo fantastici perché io li ho divisi in queste due parti, quindi scheda e messaggio, perché le schede ci permettono di suddividere i nostri campi anziché avere delle colonne, un campo sotto l'altro che magari parlano di argomenti diversi, abbiamo la gallery, abbiamo dei dettagli, quindi noi in questo modo possiamo suddividere i nostri contenuti. Il messaggio ci fornisce appunto delle informazioni aggiuntive di quello che il cliente sta per fare e poi ci sono degli addon premium che ci permettono di, con il ripetitore, di organizzare più campi insieme, ad esempio non so, un file tipo che può essere un pdf o qualsiasi altra cosa, un titolo e poi c'è il contenuto flessibile che ci permette anche in questo caso simile al ripetitore ma si possono duplicare più volte delle sezioni e ovviamente anche ordinarle. Ogni campo ACF presenta appunto queste impostazioni di default, ovviamente possono variare in base al tipo di campo, impostiamo come prima cosa l'etichetta, in automatico il nome che impostiamo verrà preso dal nome del campo ma questo può essere modificato, non è obbligatorio mantenere lo stesso nome. Poi si può selezionare il tipo di campo, quindi se è un testo, se un url, una password anziché una relazione oggetto post, diamo delle istruzioni per quanto riguarda quello che deve essere inserito all'interno di questo post, mettiamo se questo campo deve essere richiesto, quindi se è richiesto e il campo non viene compilato ci sarà un errore di validazione, potremmo impostare un valore di default, un testo placeholder quindi che fornisce delle informazioni tipo nei campi text o textaria e antepore o accodare qualsiasi elemento, sia che sia un'icona, che sia un testo, che sia il simbolo della valuta, euro, dollaro e via discorrendo. Questo è quello che prima vi dicevo, nei campi di tipo scelta sono importanti perché ci permettono di assegnare una condizione logica per mostrare o nascondere il campo corrente in base al valore di un campo precedente. Quindi ad esempio se io ho una select e metto ad esempio il valore carica pdf e successivamente c'è un campo file pdf, se io seleziono carica pdf verrà mostrato questo campo, altrimenti questo campo non verrà mostrato. Un'altra cosa importante di ACF è che io posso regolare le posizioni di questi campi, quindi io costruisco dei campi personalizzati in base alla sezione che mi serve. Anche in questo caso ACF dispone di diverse posizioni, abbiamo quelle per i post, quindi possiamo definire che questi campi devono essere visibili solo per ad esempio pagine, post o custom post type, lo status, se deve essere pubblicato, se è una bozza, se è una revisione, il formato del post, quindi se deve essere ad esempio audio, video, citazione, galleria, via discorrendo, la categoria che può essere appunto quella di default, o le tassonomie nel caso che ci siano ad esempio quelle per WooCommerce oppure tassonomie personalizzate. E oppure possiamo decidere che questi campi devono essere soltanto ad esempio visibili per il post ciao mondo. Quindi la X è variabile ovviamente. Per le pagine, quindi io posso assegnare i miei campi, ad esempio una pagina contatti, voglio mettere una serie di campi, quindi la mappa di Google e via discorrendo, solo per la pagina contatti. Posso definire il tipo di pagina, quindi quando noi impostiamo ad esempio la pagina, questa pagina che cos'è? La pagina principale o la pagina blog? Posso definire anche questo. Posso definire e assegnare questi campi se ad esempio questa pagina è genitore di un certo tipo di pagina. E la stessa cosa con la pagina, come avviene nel post, io posso decidere se questi campi devono essere ad esempio utilizzati per la pagina servizi. Posso anche definirli per utente, quindi io posso dire se l'utente corrente, Mario, mostrami questi campi. Se il ruolo dell'utente corrente è amministratore, mostrami questi campi. Se form utente, quindi quando c'è la registrazione dell'utente, se per tutte le viste, quindi sia modifica che creazione, solo creazione o solo modifica. L'altra cosa importante è che io posso definire ad esempio solo per l'utente, quindi soltanto gli utenti che sono collegati in quel momento, che sono ad esempio editori, collaboratori o contributori, possono vedere questi campi. Poi per ultimo possiamo legare questi campi personalizzati a una serie di altri post type, come gli allegati, le tassonomie, i commenti, quindi possiamo anche aggiungere dei commenti tipo le stelline. Quando abbiamo un articolo vogliamo mettere ad esempio una votazione per il blog, lo possiamo fare. Ci permette in maniera rapida, facilissima di creare dei widget anche avanzati, perché se voi vedete i campi che mette a disposizione, creare da zero un widget per selezionare post, creare condizioni logiche diventa complesso. ACF ci permette questo facilmente. E poi c'è la pagina opzioni, che è un'altra features della versione pro, che ci permette di creare dei campi generici che possono essere inseriti in qualsiasi parte del nostro template, quindi la pagina footer, leader e via discorrendo. Quindi cosa succede? Noi possiamo, una volta che abbiamo visto le posizioni, non siamo obbligati a dare una singola posizione. Io ho fatto due esempi. Possiamo ad esempio mettere il tipo di post se è film e contemporaneamente che è film, ma l'utente corrente deve essere un amministratore, altrimenti i campi che io sto creando non sono visibili. Ci sono impostazioni aggiuntive, queste sono abbastanza facili, standard, andrò veloce, quindi possiamo definire se questo gruppo deve essere attivo o meno, perché io posso crearlo ma renderlo momentaneamente non disponibile. Definire lo stile, se deve eseguire il metabox di WordPress oppure no. La posizione, quindi delle etichette, delle istruzioni. Definire un ordinamento, questo è importante perché se io ad esempio segno diversi gruppi a una pagina, io tramite l'ordinamento crescente posso dire mostrami questo prima, mostrami quest'altro dopo. Poi ci sono le descrizioni, che è una descrizione generica che appunto è una cosa nostra personale che ci aiuta a capire che cosa stiamo facendo. L'ultima cosa, e io la ritengo anche importante, possiamo nascondere degli elementi tipo metabox appunto, ad esempio negli articoli. Io ho aggiunto dei campi tassonomie, perché ad esempio magari la nostra tassonomia di default per il cliente non è chiara, non gli piace, io decido di nascondere appunto la metabox categoria e utilizzo l'inserimento di categorie attraverso ACF. Vediamo adesso un esempio, perché io parto di campi, ma com'è che avviene poi realmente l'inserimento? Io ho fatto un esempio appunto creando un custom post type film, dove ho definito delle schede, quindi abbiamo dettagli film, gallery e video. Sotto di questi ci sono diversi campi, quindi quando il film è uscito, la categoria, quindi in questo caso io non uso il betabox di wordpress, ma utilizzo quello di ACF, gli attori, le informazioni aggiuntive e dettagli aggiuntivi, attenzione, io qui sto usando una condizione logica, è un valore bolleano vero o falso, quindi se informazioni aggiuntive sarà flegato, mi verrà mostrato dettagli aggiuntivi, altrimenti questo campo non verrà mostrato. Andrò a definire che questi campi devono essere soltanto per i post type film e questa sarà la schermata di come noi vedremo il nostro post type, quando andremo a creare o modificare appunto un contenuto di tipo film. Quindi ci saranno i dettagli film, la gallery e il video. Qui ci sono alcuni esempi ovviamente di come si mostrano i campi. Per richiamare ovviamente ACF, essendo un plugin molto avanzato, non va in automatico a generare quello che ne abbiamo creato, ma bisogna richiamare i nostri campi tramite delle funzioni integrate che ACF mette a disposizione. Per fare questo all'interno del loop si inserisce la funzione the field e metteremo il nome del campo che abbiamo assegnato per ogni nostro campo. Nel caso vogliamo passare il valore attraverso una variabile, utilizzeremo get field, metteremo la nostra variabile e poi la potremo richiamare in un qualsiasi momento. La stessa cosa accade per i campi ripetitori, quindi per la versione pro, quindi in questo caso controlliamo se c'è la riga, avviamo il ciclo e anziché richiamarlo tramite the field, essendo che è un campo al di sotto di un ripetitore, lo chiameremo the subfield e nel caso vogliamo passare una variabile get subfield. Per la pagina opzioni il discorso è semplice, semplicemente metteremo sempre la nostra funzione the field e aggiungeremo il valore option al canto al nostro nome del campo. La cosa bella di ACF è che non solo ci permette di creare contenuti back-end, ma possiamo anche dare la possibilità ai nostri utenti di creare e modificare dei contenuti attraverso la funzione ACF form. Io ovviamente qui ho fatto solo una brevissima introduzione perché è un argomento molto lungo, quindi chi vuole poi approfondire ho messo un link che si potrà andare sul sito ufficiale per approfondire la questione. L'ultima cosa importante, che oggi si è parto anche di sicurezza, ACF ci mette a disposizione una funzione basilare perché ovviamente si può fare di meglio, quindi si può andare a sanificare, quindi a sfuggire ogni tipo di campo, sia che sia URL, text o textaria. Tramite questa funzione lui utilizza appunto il valore che utilizza il nostro editor notivo di Wordpress quando inseriamo dei campi, quindi nel caso si sa javascript, in questo modo viene ignorato, quindi gli utenti che inseriscono delle forme front-end in questo modo abbiamo una piccola sicurezza di non incorrere in cose comunque, come posso dire, tipo di malware, via discorrendo. Gli strumenti che ci mette a disposizione possiamo infine sincronizzare i campi tramite il file json, possiamo esportare il nostro PHP da inserire nel nostro template, ad esempio se lo volessimo rivendere in un marketplace personale o anche comunque esterno e possiamo infine esportare i nostri campi personalizzati e importarli in diverse installazioni Wordpress, quindi se io ad esempio faccio il mio tema per il panettiero, un esempio stupido, io potrei ad esempio esportare queste, anziché ogni volta ricrearli in ogni installazione io mi prendo questi campi e li vado ad inserire in una nuova installazione. Ovviamente questo è stato un discorso abbastanza poco forse esaustivo per quello che ACF in realtà mette a disposizione, quindi per maggiori informazioni potete andare appunto a questo link ufficiale e c'è una documentazione esaustiva che vi spiegherà campo dopo campo come appunto potete inserire e utilizzare questo fantastico strumento. Ciao Davide, ti volevo chiedere, tutti questi facilities di programmazione che stanno facendo per ACF ad esempio, ma anche CMB che io utilizzo al posto di ACF, sembrano diventare veramente obsolete tra poco con le API, Fields API che sta aggiungendo Wordpress, come ti pensi di muovere tu che ne fai tanto uso nei tuoi lavori per migrare questa roba in futuro e come ti stai muovendo, insomma organizzando? Questa sicuramente è una domanda molto importante, io personalmente sono in contatto con lo sviluppatore del plugin, quindi lui è anche a conoscenza di questo e appunto in funzione di come si sta evolvendo la questione delle restapi, lui sta cambiando il modo anche di come questi campi vengono chiamati, tant'è infatti che anche ad esempio la parte del customizer che è comunque una cosa abbastanza recente, lui sta lavorando su questo aspetto e sarà possibile generare dei campi personalizzati, per farti un esempio, all'interno anche del customizer, quindi noi possiamo Wordpress mettere a disposizione dei campi standard, attraverso ACF potremo dare ulteriori modifiche appunto all'utente finale, ovviamente questo bisogna anche capire fin dove Wordpress si portara con questo discorso delle restapi e poi ovviamente sono tutti discorsi che man mano si andranno ad affrontare. grazie 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 Grazie.